580.000 euro di conguagli dovuti a Enel Sole per spese di manutenzione degli impianti, e 560.000 euro con i quali il Comune supplirà alla richiesta di aumenti tariffari da parte di Conservicio per l'anno 2024. Sono le poste principali di spesa inserite nella prima variazione di bilancio votata dal nuovo Consiglio Comunale di Verbania riunito al Maggiore nella serata di giovedì. In totale 2.450.000 euro. News 24. La tua nuova TV locale.